nel tutorial precedente avevamo inserito un videoclip al nostro progetto avevamo tagliato qualche fotogramma al clip e avevamo anche eliminato l'audio in quanto si sovrapponeva con l'audio master continuiamo questo tutorial e creeremo una sorta di mascherina che abbellirà il nostro progetto dalla rete ho salvato qualche foto, questa per la precisione e vi mostro anche come crearla con un programma di grafica ho caricato la foto ho cliccato sullo strumento selezione selezione a mano libera dal tipo di selezione ho scelto punto a punto e con lo strumento ho iniziato a crearmi la mia mascherina con un click iniziate il vostro lavoro proseguite e nell'altro angolo dovete cercare di essere il più preciso possibile quando arrivate al punto iniziale dovete dare due click per chiudere il rettangolo dalla tastiera con il segno cliccate sul cancelletto e poi selezione nessuna selezione andiamo in file e salviamo il nostro progetto esporta 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 ottimizzazione png ok chiameremo prova 7 non ci serve più questa finestra l'abbassiamo torniamo al nostro programma pro show clicchiamo sul clip per attivare il livello e andiamo in effetti questo è il nostro videoclip e clicchiamo sul segno più prova 7 l'abbiamo chiamata apriamola e carichiamola si è posizionata a livello superiore così deve essere se fosse posizionata sotto con le freccette direzionali l'avremmo dovuta posizionare a primo livello invece questo è il livello video come vedete ha le sue dimensioni sono grandi non vanno bene per questa sorta di televisione dobbiamo provvedere a ridimensionarlo per adattarlo praticamente lo giriamo un poco vediamo di sistemarlo alla meglio perché chiaramente la foto non è nata per le nostre misure quindi è questione adesso solo di adattarle credo che grossomodo vada bene così dovrebbe andar bene la starting position deve avere le stesse dimensioni della ending position quindi abbiamo detto 55 abbiamo una raduazione di meno 9 e lo strumento pan lo dobbiamo settare a meno 15.03 e 6 meno 6 punto 74 vediamo la nostra anteprima bene credo che vada bene credo che vada bene ricontrolliamo le misure se sono uguali se sono uguali clicchiamo su ok portiamoci nella portiamoci nella finestra principale del programma ProShow e vediamo adesso in tutta la sua lunghezza il nostro progetto credo che possa andare vi voglio dire che nel caso abbiate delle difficoltà non esitate nel canale youtube nei commenti a scrivere dov'è che vi siete bloccati sarà mia cura e lo farò con piacere portarvi un poco di aiuto ecco adesso non ci resta che salutarci e ci vediamo al prossimo video tutorial